Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming, in questo video vi spiegherò dove trovare l'Easter Egg di Castaway in Man Eater L'Easter Egg in questione si trova qui, praticamente su questo isolotto alla Baia Zaffiro Qui, praticamente, non potete sbagliarvi Una volta giunti sul posto noterete un'isola con una zattera E sulla zattera è presente il, tra virgolette, migliore amico del protagonista in Castaway Se avete visto il film riconoscerete sicuramente